E' stata inaugurata qualche giorno fa e per l'esattezza domenica 8 gennaio la mostra del gruppo scout Gesci Caltanissetta 4, un modo per iniziare i festeggiamenti per celebrare i 60 anni del gruppo, un traguardo che viene raccontato attraverso le foto che vanno dagli anni 60 ad oggi, ma anche oggetti che fanno parte della vita quotidiana del mondo scout, dai distintivi alle promesse, dai fazzolettoni alle maglie che ricordano le esperienze vissute. Ci sono persino delle tende, una più moderna e una sopraelevata dei primi anni 70. La mostra accoglierà i visitatori nella chiesa di San Sebastiano anche nelle prossime domeniche di gennaio. All'interno di questa mostra troverete tre angoli dedicati ad ogni branca. Troviamo nell'angolo dei lupetti la legge, importantissima la promessa, e vengono raffigurati anche i personaggi del libro della giungla. Troverete Achela, Baghira, troverete anche il totem che è il simbolo dei lupetti, che è un bastone con sopra proprio raffigurato un lupo, che rappresenta proprio il branco. Il branco del Caltanissetta 4 si chiama branco Sioni. Troverete poi nella parte della branche G, quindi la branca degli esploratori e delle guide, troverete appunto i guidoni, che tra l'altro sono qui alle mie spalle, che raccontano la storia non solo delle squadrille attualmente presenti, ma anche di quelle passate. La fiamma proprio che rappresenta il reparto, quindi con il simbolo a Geshi, i colori del nostro gruppo, che sono appunto il rosso e il blu, e poi ovviamente troverete quelle che sono state, le varie attività che sono state raccolte all'interno di foto, libretti, magliette e addirittura una sfilza di fazzolettoni che ci raccontano proprio le varie attività a cui i nostri ragazzi hanno partecipato, non solo quelle di oggi ma anche quelle di ieri, e li troverete tutti appesi. Troverete anche un angolo dedicato a quella che è la branca RS, la branca di rover e delle scolte, i loro punti gardine sono appunto il servizio e la strada, quindi troverete appunto uno zaino, una tenda e degli scarponi, ma anche tantissime foto che rappresentano proprio il servizio, l'essere a mettersi a disposizione degli altri. Tra l'altro ci sono anche foto di eventi nazionali, come le rotti nazionali, come i rover, o è a cui i nostri ragazzi appunto hanno partecipato. Per finire, diciamo che troverete quello che è stato il padre fondatore che ha dato la possibilità agli scout di insediarsi all'interno di San Sebastiano, che è Don Pippo Magri, quindi troverete appunto la sua foto al centro di San Sebastiano, per ricordarci di essere grati a lui, di questo prezioso tesoro che è appunto questo gruppo scout.